Ciao, io sono Margherita e vorrei parlarvi della mia nuova collezione di vestiti per bambini che si chiama appunto Margherita. Io ho avuto la fortuna di crescere pensando che non ci fossero regole, soprattutto esteticamente, che non ci fossero scelte giuste o sbagliate. E questo è quello che vorrei comunicare con la mia prima collezione. Vorrei che i bambini potessero scegliere da solo i loro vestiti, quello che più piace loro nel guardaroba, senza la condizione di un outfit perfetto. In questa collezione tutto è giocoso, divertente, è forse quello che accomuna questo progetto allo spirito di Yooks. Un altro aspetto che ho prediletto è quello del comfort. Infatti con la nascita del mio primo bambino, Otto, mi sono resa conto che la maggior parte dei vestiti per bambini sono fatti da persone che non hanno figli. Per me era molto importante che i bambini si sentissero liberi nei loro movimenti e a loro agio. Per me era molto importante che i bambini si sentissero liberi nei loro movimenti e a loro agio. Per me era molto importante che i bambini si sentissero liberi nei loro movimenti e a loro agio. Grazie a tutti.